ciao a tutti da gentubersiaki e tommy nel terzo ormai episodio di rocco feige non ho visto dove eravamo però falo se sta un raise una roba del genere comunque non lo sappiamo si sta diventando nel medioevo giustiniano quella è gandalf si si fa nel medioevo ok questo è gandalf non passa ma è epico questo cioè avevo appena visto gandalf che cercava di fermarci che cercava di prendere giustiniano ma dai ma dai giustiniano che scritto i cittadini i miei miei a posto ok non è una donna per favore della direzione ok allora spari il mondo bucconi dove possiamo pensare valora quando fa ciao lì come scriva ah no scriva a posto anche perchè se poi li metto dietro queste a voi vedare e se passa qua su sai cosa non usare le catapulte perchè è davvero schifo qua no no lì eh lì mettici le torrette che non gli permettono di salirci ah è vero mamma mia tattica questa vabbè lì non può arrivarci voglio vedere come fa dai andiamo mamma mia tiraci i soldi dopo dopo ce lo facciamo vediamo che abbiamo la possibilità di partire con una nuova palla anche lui però furbo come ecco l'acqua ha sentito quello sono sempre più agli sti avversari sei tra i ditomini guardi già il nome che abbiamo avuto in stata erano oh ma sti elefanti e sporno voglio vedere se l'avevo fatto partire un piscito per me di città ce lo siamo già contro dei gradini ah guarda lei il portone è più figo però oppa 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 gamina style oppa no oppa ma io ho capito che sono sicuro che mi ha detto l'andona cacca con violenza o comunque il grande guardiamo le palle a lui so bello e i soldi è arrivato ah ah è questo che lancia le cose, piazza di qualcosa tipo piazza di nomi so ah già è vero no niente scusa pensiamo di farlo, ho sborchato un achievement occhio di falco poi magari un giorno andremo a vedere gli achievement di questo giochino perché davvero ragazzi è una cosa fantastica eh però io voglio tanti i soldi per comprare ah no abbiamo già sparato eh no costava circa 800 700 quella sadomaso il testicolo sadomaso 700 il testicolo sadomaso e 1000 quella di sado si è di sado tutta l'armata che figata vede 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 saltati iupete schiamo liscio 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 non ha piassato niente ah per evita taglia dritto diretto no devi saltare dopo è che tutta una questione di dinamica oh ehi eh non la tiro giù quella lì ma dai c'è manchi borchiati buffoni nell'acqua tricchiavi adesso mamma mia se non la bucchiata in carica eeeh a me c'è a prossimo è fatta puoi anche partire subito così parti anche ah beh non è giusto gli un paloompa devono sgobbare attento che non so ne che dov'è dov'è attento ecco è la eh devi fare mille oh no ah puoi vendere provo a fare cance no si si no no devi farla vabbè vabbè anche prima le abbiamo usate devasta le porte nemiche e poi dimmi se non ti casi e si va e si va tranqui come prima con calma comunque gli uomini per te non servono a niente eeeh si pippa al culo ma cosa devi fare buffone si pippa al culo ma cosa devi fare buffone e via dritto mi dà se riesce a prendere i tempi no eh ma perchè è poca la velocità stavolta si eh non attiri giù quella no no oh c'è borchiato prima la velocità stavolta evitiamo oh oh si fa il stramato uaaaa uuuh com'è che era questo giustiniano guarda anche lui guarda come era agita le gambine povero guarda giustiniano non ti che basta eh questi vittori vengono troppo corti però eh è che se ne facciamo un altro diventa troppo duro e le caricheremo vicini si infatti quindi ne faremo subito un altro allora ragazzi quindi anche per il prossimo episodio di Rocco Feige eeeh siamo giunti al termine eeeh mettetevi in piazza e commentate e iscrivetevi dal youtuber se è tutto e siamo arrivati nel medioevo vediamo cosa ci sarà nel prossimo episodio yo vada fucker yo ciao 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 ciao